Novi profili professionali per le professioni sociosanitarie, un emendamento che è stato approvato, di cui lei è prima firmataria. Che cosa cambierà per le professioni, cosa cambierà per gli ordini? Guardi, per le professioni cambia dell'area sociosanitaria naturalmente, che finalmente hanno un riconoscimento ufficiale. E' molto importante perché la sanità tende sempre al suo interno a privilegiare la parte medica, diciamo così, di cura, piuttosto che il punto dell'integrazione con il sociale. Lei pensi a tutto l'ambito della non autosufficienza o degli interventi verso l'infanzia, figure professionali come gli OSS, piuttosto che gli educatori professionali e l'assistente sociale, hanno tutto pieno diritto di cittadinanza all'interno del nostro sistema sanitario. Non sono nuovi ordini, vorrei chiarire, perché gli ordini sono previsti in altra parte del DDL e Lorenzin e quindi non andiamo a aumentare gli ordini professionali con questi nuovi campi. E' il riconoscimento di un settore. Per quanto riguarda l'iter didattico, invece, per quanto riguarda la formazione, quali sono le linee direttive, se ce ne sono? Tutto l'ambito della formazione va sempre concertato con il Ministero dell'Istruzione, quindi col MIUR, con accordi in conferenza Stato-Regioni, quindi sarà demandato a loro. Si tratta comunque di professioni, salvo gli OSS, che hanno già una loro regolamentazione.